Inizia bene il girone di ritorno per le nicosiane della NAF, guidate in panchina dal coach Andrea Angilello. Nella dodicesima giornata del campionato di Serie D, il sestetto della NAF è riuscito ad imporsi con un suono 3-0 contro le avversarie della San Giuseppe Adrano. Incontro senza storia, le nicosiane fin dalle prime battute hanno imposto il loro gioco, i parziali. Parlano chiaro 25-15, 25-19, 25-20. Con la nona vittoria in campionato, le ragazze della NAF mantengono il secondo posto in classifica e possono preparare serenamente l'incontro di sabato 1 marzo contro l'Alus Masca Lucia che le segue in classifica. Quanto visto oggi allo Stefano Lamotta, fa ben sperare per il proseguimento del campionato. Concentrazione e grinta sono le armi che Romano, Lovodrigo, Liardi e compagne sanno sfoderare quando il gioco diventa impegnativo. Lovodrigo, Liardi e compagne sanno sfoderare quando il gioco diventa impegnativo.